Mi dica i sintomi. Dottore, io in questo periodo faccio fatica a concentrarmi e non riesco più a scrivere. Ma è un periodo di particolare stress, sta facendo esami, università... Sì, anche l'università, un po' d'ansia, mi, da... Mi vede dentro due vans, nella maglia dei gans, come fare l'attrice mamma... Ma no, lei ha la pinguinite. Come io faccio anche una dieta specifica? Sì, dieta o non dieta, ma è un virus, si diffonde rapidamente. Ma non è grave, basta inserire un gastroprotettore per riequilibrare il flusso. Chiuda gli occhi, si distenda, seguo il flusso. Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Previene, previene. Ci si spalma sopra il giletto di parole, vuote ma doppiare il flusso, ritornando. Potrei ma non voglio affittarmi di te, io ne ti conosco, in fondo non c'è... Senti il flusso, lasciati andare, non lasciati andare, senti il flusso, non vantare e senti il fissio. E' un cuore di mille rassunti, leggera, 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 leggera. Si bagna la fia, ma non c'era, e non ci sei più. non ci sei bene che si sente io la ringrazio grazie grazie grazie